Ciao, sono Livio Castiglione, sono con Giuseppe da sei mesi all'incirca. Ero in un periodo in cui non riuscivo più a trovare le motivazioni giuste per allenarmi e per mangiare in una determinata maniera e quindi avevo bisogno di una figura che mi desse delle dritte, quindi dei piani da seguire e in Giuseppe ho trovato questa figura che mi ha reso tutto più semplice. Spero di continuare ad ottenere dei buoni risultati, mi ha fatto piacere anche la giornata di oggi. Questo evento è una sorta di confrontarsi anche con altri ragazzi, altre persone che affrontano un percorso come il nostro, e vedere che ci sono effettivamente dei risultati, chi più chi meno, su ognuno di noi è una cosa positiva e anche uno stimolo ulteriore per continuare ad andare avanti. Quindi benvengano anche queste giornate di allenamenti e di coesione, perché tutti assieme sarebbe anche positivo confrontarsi di più per le eventuali problematiche o qualsiasi cosa. Quindi mi ha fatto piacere e spero di continuare ad ottenere dei buoni risultati e con Giuseppe.